L'ex carcere di San Vito nel cuore della città è in vendita. La struttura, anticamente un monastero, venne successivamente rimodulata a carcere o meglio ancora a casa circondariale. Ha ospitato centinaia di detenuti tra uomini e donne, anche importanti, fino a quando il Ministero della Giustizia ha trasferito nel nuovo immobile di Petrusa nel 1994, chiudendo definitivamente l'antica struttura di San Vito. Adesso l'Agenzia del Demanio, dopo accurati sopralluoghi e studi di fattibilità, ha deciso di metterlo in vendita affidando ad alcuni professionisti il progetto per una finalità turistico ricettiva regata ai servizi e all'offerta turistica. Ricordiamo che anche il Consiglio Comunale di Agrigente, in occasione dell'approvazione del Piano Regolatore Generale, se n'era occupato, individuando la stessa destinazione funzionale a quella dei giovani, tipo Stello. Il bando è pubblicato sul sito Invest in Italy, dove si trovano facilmente offerte di investimento in immobili pubblici di società partecipate pubbliche destinate ad operatori italiani ed esteri. Un progetto che potrebbe certamente creare ottime opportunità di sviluppo al nostro territorio attraverso la valorizzazione di un sito riconosciuto storico anche dalla regione siciliana. Alla base diverse proposte legate alla vocazione turistico-culturale, alla possibilità di costituire un polo dedicato allo sviluppo del territorio ed alla diffusione della cultura del restauro o del recupero edilizio, anche in chiave moderna, nel rispetto della storia delle tradizioni costruttive. Possibile anche la destinazione di tipo scientifico e didattico, culturale, creativo, turistico. È, per come pubblicato nel bando, una idea di sviluppo da cui poter ricavare maggiori dettagli ed informazioni.